Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Terminata la partita di questa sera, quella fra Napoli e Torino, terminata 0-0. Non è ancora finita la giornata, ci sarà poi domani Roma contro Bologna, ma sarà un altro giorno. Intanto parliamo appunto di questa partita, Napoli contro Torino, che ha visto sicuramente un Napoli secondo me che meritava un pochino di più. Ha trovato avanti a sé un Torino che in difesa era organizzatissimo, un culo è stato devastante secondo me. in fase difensiva, ha fatto vedere anche qualcosa dal punto di vista tecnico online, mi è piaciuto molto sulla sinistra. Insomma, anche Moretti per dire che era un po' scettico su Moretti, invece ha fatto una buona prestazione così come Izzo. E Siriu, oltretutto, ha parato veramente tutto quello che c'era da parare, quello che si poteva parare. Napoli che è stata anche un po' sfortunata, ha preso anche quel palo con Insigne, però è anche vero che se tu crei 20 occasioni da gol è impossibile che tu non riesca a farne almeno uno. Io mi aspettavo sinceramente un Napoli più cinico quest'anno con Ancelotti, è un Napoli che effettivamente dal punto di vista tecnico fa vedere delle belle cose a dei grandissimi giocatori. Però devi essere un po' cattivo, come detto, su 20 occasioni non è possibile che tu non ne butti dentro nemmeno una. E fa pensare il fatto che comunque già non è il primo 0-0 che fa il Napoli, ma infatti se non sbaglio 3 nelle ultime 4 partite e questo sicuramente vuol dire. Merito del Torino che si è chiuso bene, demeriti del Napoli, questo poi lo lascerò anche decidere a voi. Secondo me, come detto, entrambe le cose combaciano, nel senso che il Torino ha difeso molto molto bene. Il Napoli invece ha attaccato estremamente male, anche dei contropiedi. A volte si capitava, c'era addirittura un contropiede 3 contro 1 a favore del Napoli e non l'hanno sfruttato e questo sicuramente è un segnale molto molto negativo. Il segnale negativo è soprattutto il fatto del campionato, la Juventus che adesso vola a più 13 e sembra veramente inarrivabile attualmente, insomma la Juventus che per le altre 4 partite la vedo dura. Poi comunque avrà un discorso anche della Champions, quindi sicuramente ci punterà molto di più a livello energetico sulla Champions e quindi credo che in realtà poi insomma un pochino accederà. Però 13 punti sono davvero tanti e non sarà, secondo me, molto molto difficile che venga appunto raggiunta. Ora, il Torino va a fare i complimenti, va a fare i complimenti per l'organizzazione della partita Mazzari io non lo sopporto, non lo sopporto, non capisco le sue scelte, non capisco assolutamente come alleni però c'è da dire che oggi ha preparato la partita in maniera giusta, una squadra che si difendeva molto, si difendeva molto bene dietro e poi cercava di ripartire con la velocità di Ansaldi, con la velocità dei Silvestri sulla fascia, Olaina, Baselli quando è entrato, Parigini quando è entrato e Belotti. Quindi complimenti al Torino, come detto non mi sta sul cazzo Mazzari, mi gira anche un po' le balle e fa lì dei complimenti però quando è doveroso è doveroso. Detto questo ragazzi il video è finito, io vi invito a mettere mi piace se volete altri video post partita, vi invito a scrivermi nei commenti la vostra riguardo questa partita appena terminata e vi invito infine ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video attualità calcistica, fantacalcio e qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.